Dopo la dichiarazione di indipendenza dal Partito Democratico e del consigliere comunale Franco Di Biasi, avvenuta circa un mese fa, altri tre consiglieri comunali si sono dichiarati indipendenti per la costituzione del gruppo misto Impegno Comune. I tre consiglieri comunali che hanno voluto separarsi dai rispettivi gruppi politici sono Gianluigi Verrone, Lista PD, Salvatore Coppola, Lista Coppola e Dinardo Eleodoro, Idea Comune. Nella lettera protocollata ieri mattina presso la Casa Comunale Agropolese, i tre consiglieri fanno presente che si distaccano dai gruppi di appartenenza in cui sono stati eletti e comunicano di costituire in seno al Consiglio Comunale di Agropoli il gruppo consigliare misto Impegno Comune, composto da tre consiglieri. Inoltre ci tengono a sottolineare che per il bene della città di Agropoli la loro azione politica sarà svolta con senso di responsabilità nel rispetto del mandato ricevuto e in continuità con quello fino ad oggi sviluppato. I suddetti consiglieri manterranno inoltre il ruolo di maggioranza costruttiva a sostegno del sindaco Adamo Coppola, non per concessione ma per scelta e per coerenza. Il ruolo del capogruppo verrà svolto da Eleodoro Dinardo, quello di vice capogruppo da Gianluigi Verrone.